Non molto tempo fa vi ho portato una guida all'acquisto di case di tutti i generi per fascia di prezzo, dimensioni eccetera eccetera e ve la lascio come indicazione ancora qua nelle schede o sotto in descrizione ma questo video lo faccio per tutti coloro che non vogliono per forza di cose aggiornare il proprio case ma sentono di appartenere ancora a un tempo passato quindi che il case al momento attuale sia comunque limitato in alcune delle sue funzioni non per forza in tutto ma in ogni caso non intendono cambiarlo e sono tanti che comunque non vogliono fare questo passaggio perché particolarmente affezionati alla forma del proprio case perché non hanno voglia semplicemente di fare il travaso per intero in un altro case ma preferiscono aggiornare singole componenti che non fanno tirar fuori tutto quanto dalla macchina e rifarne una praticamente da zero perché di fatto cambiando il case bisogna per forza riassemblarsi il PC per intero insomma ci possono essere tanti motivi pur non volendo fare questa procedura sentono il bisogno di dover modernizzare un po' il proprio PC e soprattutto tra case di qualche anno fa ci sono tantissime soluzioni a cui potreste voler accedere e praticamente tutte sfruttano la compatibilità con gli slot quelli ormai un po' vetusti a 5.25 pollici quindi i classici slot larghi che stavano solitamente nella parte alta della fronte del case dove andava inserito il lettore cd che mi fa un po' ribrezzo solo dirlo ovviamente in questo vano non ci sta solo un lettore cd ma una quantità di cose veramente infinita cioè se ne sono inventate di ogni perché giustamente sono belli larghi quindi possono ospitare anche qualcosina in più a livello di periferiche e non solo ma ci arrivo un passo alla volta oggi vi propongo alcune soluzioni per rimodernizzare un po' il vostro vecchio case a partire ovviamente da delle espansioni di porte quindi se il case è particolarmente vecchio potreste ad esempio non avere delle USB-C o ad esempio non avere neanche delle USB-3 per cui aver bisogno di un qualcosa che vi permetta di usufruire di questo standard anche frontalmente in maniera più agile senza dover arrivare per forza alle porte dell'input-output della scheda madre anche sulla fronte del case e qui di adattatori con multi porte ce ne sono infiniti quindi potete benissimo scegliere quello che più si adatta alle vostre esigenze ce ne sono di sole USB ce ne sono di USB, miste ad SD, micro SD e tante altre porte di espansione ce ne sono per ogni veramente esigenza e qua sotto magari ve ne lascio un paio di vario genere e sono tutti o quasi tutti i prodotti che vanno dalle 10 alle 30, 40 euro esagerando proprio quindi a livello di costo non vi preoccupate ovviamente parlando di case una delle associazioni mentali che si fanno in automatico è la ventilazione sono le ventole quindi la presenza o meno di ventole e la possibilità o meno di gestirle senza per forza dover accedere appunto al BIOS alle impostazioni, a software terzi quindi farlo direttamente interagendo con il case cosa che in tanti modelli nuovi permettono effettivamente con un tasto con una levetta o un qualcosa di gestire le ventole integrate nel case volendo, sfruttando appunto le porte e gli slot da 5.25 potete installare una cosa del genere e anche qui la scelta è infinita veramente perché ci sono sia dispositivi che vi fanno collegare un tot di ventole anche un buon numero di ventole e ve le fanno gestire manualmente con delle ghiere da girare per andare appunto ad incrementare o diminuire la potenza il giri delle ventole che avete collegato o anche versioni un po' più digitali quindi con degli schermi touch che vi permettono appunto di interagire con le velocità o per esempio se non si tratta di ventole PWM di interagire con il voltaggio per aumentare o diminuire la velocità delle ventole anche qui sicuramente il consiglio più grande per diciamo migliorare l'efficienza di un case vecchio datato è quello di sicuramente aggiungere un tot di ventole moderne quindi con appunto il controllo il PWM quindi la possibilità di gestire le rotazioni delle ventole e magari un controller frontale da cui poterle gestire manualmente in base appunto a quello che state facendo o anche semplicemente settarle in un modo e così lasciarle per l'eternità sicuramente questo è il consiglio migliore per diciamo modernizzare un case vecchio ventilazione è la cosa più importante ma dato che lo slot quello frontale per il lettore di dischi come detto è abbastanza capiente volendo quindi ci sta effettivamente uno sportelletto discreto mettiamola così potreste ad esempio voler trasformare la parte frontale del vostro case in una cassettiera perché no? diciamo frusaglie, chiavette SD tutti i dispositivi piccoli cacciavitini anche volendo io ne ho veramente un sacco e per tenerli ho due cassettiere di fianco al PC due, non una, due quindi avere qualcosa diciamo per stoccare le cose riguardanti il PC come in primis le USB le chiavette o anche le memorie SD è sicuramente una cosa comoda e se avete più di uno slot ad esempio da 5.25 potete installare dei cassettini letteralmente a scomparso ovviamente quindi che dovete premere per farli uscire dove poter inserire tutte queste cose e costano veramente una cavolata comodi ovviamente stoccano fino a un certo punto perché le dimensioni non sono non ci potete mettere una stecca da biliardo dentro però sicuramente le cose più piccole le potete inserire e tenerle appunto tutte lì stoccate direttamente nel PC ed ultimi ma non per importanza sono i bei, gli slot di espansione magari anche hot swap quindi che si possano staccare come delle chiavette USB per dischi sia da 3.5 quindi classici hard disk grossi anche questi un po' vetusti sia per dischi da 2.5 quindi SSD classici SATA o altro hard disk di vecchio standard o comunque appunto dischi di queste dimensioni questo è ovviamente installabile sono per lo più degli slot che vanno a occupare uno o due slot da 5.25 a seconda di quanti dischi poi volete inserirci dentro e possono essere utili soprattutto per chi smanetta parecchio con delle memorie grandi come gli SSD quindi ha sempre bisogno di staccare attaccare in maniera rapida i propri dischi per leggerli velocemente da PC allora in questo caso riadattare queste porte come diciamo uno slot di espansione per dischi può sicuramente tornare utile ovviamente tutti gli attacchi dietro sono i medesimi quindi non avete problemi di velocità di trasferimento eccetera eccetera e ci sono soluzioni che includono anche magari una ventilazione attiva per i dischi che andate a inserire quindi li tiene un pochettino più sotto controllo a livello di temperature oppure adattatori che tengono una quantità smisurata di dischi tipo doppio slot 6 dischi da 2.5 anche qui potete sbizzarrirvi un po' come vi pare ovviamente più sono ebay più sono le porte di espansione incluse nell'adattatore tendenzialmente più sarà alto il costo queste ragazzi sono solo alcune delle diciamo migliorie che potreste apportare a un vecchio case e nel caso in cui appunto sentiste il bisogno di cambiarlo arrivaste il momento di cambiare case perché effettivamente troppo vecchio vi rimando come detto alla guida che ho fatto qualche mese fa quindi fatemi sapere la vostra fatemi sapere se avete anche migliorato il case in altro modo quindi se avete trovato espansioni diverse da quelle che vi ho citato in questo video e tutto quello che volete qua sotto nei commenti io ovviamente in descrizione vi lascio i modelli i prodotti quelli che considero più papabili diciamo per questo tipo di procedura e ovviamente vi do appuntamento ai prossimi giorni con tanti altri video ancora ciao 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 ciao